Siamo nella squadra di difesa, il mio lavoro è di difendere la bomba, locata alla fine fine del campo. L'attacco di attacchi deve riuscire a lungo le tracce verde, trovare la bomba disarmata in codice, mentre disarmando gli enemy. Finalmente devono andare alla fine fine del campo e disarmare la bomba. L'attacco di attacchi ha sofferto alcune risposte, ma trovano il codice disarmando e riuscirono la maggior parte del campo. Siamo solo due resti per difendere la bomba, un'attacchiavabile fino a che l'HQ ha deciso di riuscire a riuscire tutti i attacchi morti, in grado di riuscire ai pezzi. La tattica più riuscita è di riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire contro uno dei nuovi attaccchi. Uno dei attaccchi aveva deccerso di bruttare alto aمنa per il mio istr Ama le mie sott 69. che l'ho parla inizio a vedere gli attacchi rispondenti facendo il suo passaggio a noi iniziamoci fuori dall'esercizio e spaventati I miei amici sono fatti, ora sono l'ultimo ufficiale Con i BBs vengono da ogni direzione e i nemici arrivano più vicini ho sentito l'esperienza di muovere da questa posizione. Usare magasini in low cap è una grande disavventura quando facevo un grande numero di vengono con i magasini in high cap. Purtroppo fuori di BBs. Questo è l'ultima barricade all'inizio del campo, non ho niente dove andare. Purtroppo si riuscì, ho esito la forza e hanno preso controllo. Purtroppo si riuscì. Purtroppo si riuscì. Questo è il mio BBs. L'estero si riuscì e non voglio essere riloggiato riloggiando i miei mag. Purtroppo si riuscì. La bomba si riuscì a esplodere al final dell'unità di un'ora. La mia unica speranza è che la bomba si riuscì prima che l'enemico mi riuscì. Purtroppo mi riuscì. Non puoi immaginare quanto felice ero per sentire il ringtone della bomba che si riuscì. Purtroppo mi riuscì a dire al HQ che la bomba si riuscì. Non importa se la bomba si riuscì, il nuovo ordine è di uccidermi. Purtroppo mi riuscì, ora sono davvero f***ato. Era davvero difficile per salvare questa attacca, ma l'avevo la mia migliore scelta. Grazie per aver guardato il video. Non dimenticate di like, commentare e abbiornare. Se vuoi sapere più sull'ora che si uscì in questo gioco, clicca sulle link interattive. Ci vediamo la prossima, e stai sicuro qui. A presto.